oh 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 il tempo sta peggiorando dobbiamo coprire i campi sta per piovere coquerel sbrigati a prendere il telo di plastica ecco adesso il telo non volerà via ragazzi sbrigatevi a rientrare altrimenti vi inzupperete dobbiamo chiudere prima tutte le porte e finestre ragazzi sbrigatevi sbrigatevi dov'è il pappagallo aiutatemi aiutatemi calma 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 resisti resisti sono tutto tutto inzuzuzuzu pupato stai bene oh bene fa caldo qui dentro ah hai preso un raffreddore devi farti vedere da un dottore sciocchezze oh hai ragione permesso ciao entra entra non aver paura ciao dottore oh salute sdraiati sul divano non mi sento bene e io ho freddo per qualche motivo oh hai una febbre altissima cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo fare dottoressa dovete mettere un panno freddo sulla fronte di a 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 e a piccoli sorsi devono restare in ospedale durante la notte mi occuperò di loro va bene guarite presto ragazzi tornerò domani vedo che ti senti già meglio sì grazie dottoressa non dimenticate quando piove avete bisogno di un ombrello un impermeabile e degli stivali di gomma per non bagnarvi e ammalarvi ehi ragazzi dottoressa possono andare sì sì stanno bene